L'istituto comprensivo Giovanni XXIII è la mia scuola. Tutte le mattine i suoi cancelli si aprono e noi studenti iniziamo una nuova emozionante avventura. Volete dare un'occhiata? Ok, entriamo. Questo è l'ingresso principale. Dopo averlo barcato, ci troviamo subito al pronto office, dove un operatore scolastico ci saluta mentre ci avviamo verso le nostre aule. Il nostro istituto è dotato di laboratori nei quali svolgiamo attività pratiche di varia natura. Ecco il nostro Smart Lab, con le sue serie rinnovative e l'ambiente ideale nel quale confrontarci con le nuove tecnologie, la rete e il mondo digitale a portati più comodosi. Qui siamo nel laboratorio linguistico, dove ci esercitiamo nel reading e nello speaking. Very nice, don't you think? Que bien, qu'est-ce que vous passez? E ora nel laboratorio scientifico, tra pianeti, strumenti tecnici, microscopi, dispositivi tecnologici per il coding. Ci sentiamo tutti un po' dei piccoli Newton, alla ricerca di una simpatica scoperta. E questi pannelli scuri? Dove siamo? Ma nell'aula di musica ovviamente, completamente sonorizzata, ideale per concentrarci tra i pentagrammi e farci cullare dalle note. Ehi, diamo la sbricciatina sui pro? Ecco dove incontrarli quando non sono in classe. Proseguendo lungo il corridoio, ci imbattiamo nel nostro super accogliente angolo per il book sharing. Qui possiamo scambiare libri totale libertà. Evviva la lettura! E ora, che ne dite di vedere una classe di scuola secondaria? Benvenuti, questa è la mia classe. L'ambiente ideale in cui confrontarsi con l'insegnante e con i compagni. E ovviamente anche vivere momenti divertenti e stimolanti. Ah, e se cercate un buon libro da leggere, la nostra biblioteca è il vostro giusto dove stare. Accogliente, invitante E vi invitante piccole e divertenti sorprise. Adesso facciamo un bel giro nella sezione dove pulsa il cuore della scuola primaria. Le frasi simboli sono incoraggianti e stimolanti. Le aule sono coloratissime e pronte all'ospitare i più piccoli, coinvolvendo le dimensioni in cui si impara divertendosi tra numeri e l'ottere. Se una partita non vogliamo farla? Pronti per un bel canestro o per segnare un gol all'Aquilien Mbappé? Un'occasione per ripassare il tabellino, tagliamo insieme le scale. Ah, e ne abbiamo di troppi qui, eh? E che bello il nostro sterzardo, simbolo di una lunga e gloriosa tradizione. Caspita quante carte! Per tutte le pratiche rivolgetevi pure alla segreteria, saprà certamente darvi la risposta giusta. E il nostro dirigente scolastico, Valentino Di Stolpo, sarà avuto da scogliervi nel suo ufficio per ogni venenza. Sulla stesso piano è sempre attivo il nostro laboratorio di arte. Tra dipinti, pennelli e colori, è un piacere perdersi per stimolare la nostra fantasia e la nostra comunità. Picasso, Michelangelo, Van Gogh, chissà che un giorno non venga fuori da qui un nuovo grande artista. Il nostro istituto ha anche altri plessi. Eccoci qui, al plesso Pasculli, dove possiamo incontrare alcune classi della primaria. Superati i suoi cancelli, ci troviamo in un ambiente spazioso e vivace, con momenti di svago all'aria aperta, una palestra celestiale. E' anche uno spazio dedicato al teatro per i Shakespeare in Erbach, senza dimenticare un'amabile biblioteca. E' un gradevole laboratorio di informatica. Chiudiamo il nostro tour con la scuola dell'infanzia al plesso Ofanto. Qui, i più piccoli, sono accolti in ambienti ospitali. Gioiosi, sicuri e ordinati. Non manca un avveniristico schermo touchscreen. Insomma, l'istituto comprensivo Giovanni XXIII è la mia scuola, dove sono felice e mi sento perfettamente a mio agio. Venite anche voi a vivere una straordinaria avventura formativa. Così potrete scoprire tante altre fantastiche sorprese che, sono certa, vi stupiranno piacevolmente. Come ci sono ancora un luogo di intervistico piccoli. Quali ragazza campanile. Come si andate a chi con le d'abili? Come la scuola, tu ciascinaizzy? Come la scuola, tutti, ho scuola, tutti, ho scuola, tutti. No, come sempre! Come la scuola, tutti! Grazie a tutti.